Questo evento a cui io tengo in modo particolare anche perché è stato organizzato nel periodo in cui si celebra a livello mondiale quella che è la giornata contro la leucemia mielone cronica, la giornata di consapevolezza di quali sono i progressi che la ricerca ha fatto nel campo della mieloide cronica e della consapevolezza che è necessario continuare e andare avanti con la ricerca perché sempre più importanti passi avanti sono necessari da fare. Come ci ha spiegato prima l'amico Alberto Fragasso abbiamo anche visto come si è evoluta la leucemia mielone cronica nel tempo ed è proprio il 9-22 cioè quella traslocazione di quel gene di cui ci ha velocemente parlato del BCR-ABL che determina la traslocazione del 9 al 22 che praticamente è alla base di questa patologia e quindi noi festeggiamo la giornata intorno alla data che richiama questo numero, 22 settembre e il 9-22 che vi dicevo prima. Ecco, allora oggi, ripeto, celebriamo la giornata mondiale della leucemia mielone cronica e nello stesso tempo voglio ricordare a tutti che il gruppo nasce appunto il 16 ottobre del 2009 quindi fra qualche giorno il nostro gruppo pazienti compirà 14 anni e ci siamo costituiti a Roma alla presenza del professor Mandelli abbiamo seglato un atto costitutivo e il nostro gruppo è GAP LMC GAP in inglese sta per divario, ecco il nostro gruppo vuol colmare un divario fra quella che è una malattia e quella che è la vita di tutti i giorni il logo che c'è qui sulla sinistra, in alto a sinistra, è il logo del nostro gruppo realizzato dalla moglie di uno di coloro che hanno fondato il gruppo e che abbiamo trasformato in la leucemia la malattia curiamola insieme e l'MC è diventata la malattia curiamola insieme e a differenza del logo di AIL che vedete in basso a destra nella slide ci sono i due omini neri che prendono insieme e si curano dell'omino rosso che è il malato nel logo del gruppo pazienti i tre omini sono tre omini rossi quindi sono appunto il significato che pazienti aiutano altri pazienti e quindi i gruppi sono formati essenzialmente ed esclusivamente da pazienti e caregiver caregiver è una parola un po' generica che però raccoglie l'amico, il familiare e tutti coloro che intorno al paziente vivono la malattia e il nostro gruppo sin dall'inizio ha trovato supporto scientifico ma anche divulgativo e di supporto nel working party Gmema, nel gruppo di lavoro specifico che c'è all'interno del Gmema che tanto ha fatto per la mieloide cronica a livello internazionale e poi prima ancora di costituire il gruppo pazienti l'MC io ho fatto parte, faccio parte della CML Network Advocates, cioè di quelle persone pazienti che si rendono disponibili ad aiutare altri pazienti e a supportarli nella garanzia dei propri diritti e nella tutela dei propri diritti e siamo anche membri come gruppo dell'European Cancer Pace Coalition che è un gruppo di associazioni pazienti a livello europeo che interagisce con la Commissione Europea per la modifica, l'adeguamento della legislazione europea per quanto riguarda i diritti dei pazienti con cancro. Dicevo appunto che il nostro gruppo sin dall'inizio appartiene a quella che è la CML Network Advocate io ho conosciuto e collaboro e faccio parte di questa associazione che è formata da 128 gruppi di pazienti di mieloide cronica a livello mondiale disseminati in 93 paesi diversi in giro per i cinque continenti e il nostro gruppo, io sono stato anche past president di questa associazione internazionale. Come diceva Giuseppe, i gruppi pazienti si adoperano già a partire dal 2009 innanzitutto per attività educazionali come quella di oggi dedicate ai pazienti e ai familiari e in questi 14 anni ormai, più che 13 come scritto nella slide sono stati realizzati seminari medici in tutta Italia con la collaborazione dei centri ematologici ma in particolare con la collaborazione dei centri, delle sezioni ai locali e devo ribadire che questo incontro di Matera nasce proprio da una richiesta diretta Fattami dall'amico Alberto Fragasso in occasione di un'assemblea AIL chiese di poter tornare a Matera per un incontro pazienti e abbiamo deciso insieme a lui di organizzare questo incontro e con l'aiuto degli ematologi, in particolare il dottor Pizzuti che ha fatto da riferimento, Michele Pizzuti che ha da riferimento come coordinatore scientifico di questa attività ringrazio anche tutti gli ematologi che sono presenti e che ci aiuteranno a capire meglio la patologia e tutto questo perché? Perché una malattia non deve interrompere una vita questo è stato sin dall'inizio nel 2009 non c'era certezza che la mieloide cronica fosse una malattia totalmente indirizzabile c'era la speranza che davano gli studi clinici che dava l'evidenza della vita che tutti i giorni le persone riuscivano a superare questa malattia se torniamo un attimo indietro al 2000 quando il primo marzo del 2000 io ricevetti la diagnosi di una leucemia mieloide cronica ricordo ancora oggi e nessuno me lo potrà mai cancellare dalla mente come il medico, la dottoressa all'epoca alle molinette di Torino mi disse guardi lei ha dai 3 ai 5 anni di vita avevo 41 anni, 3 bambini piccoli uno di 4, una di 8, l'altro di 10 e mi preoccupavo di loro e con mia moglie cercammo di capire come poter gestire questa malattia lei all'epoca mi disse ma allora la nostra vita insieme non ci sarà più non avremo un futuro insieme e io le dissi Marisa viviamo giorno per giorno cerchiamo di capire e di vivere bene ogni giorno vedremo e tanto abbiamo una fortuna rispetto ad altri sappiamo che c'è un termine mentre altri questo non lo hanno ancora materializzato quindi dobbiamo riuscire a vivere bene ciò che abbiamo davanti sarà un anno, 10 anni ne sono passati ormai 23, quasi 24 e io sono in sospensione di terapia dal 2014 non assumo più farmaci per la mieloide cronica la mieloide cronica non è più un problema per me almeno fino a questo momento e sto vivendo bene quello che ho continuato a lavorare a vivere eccetera ma io come ho conosciuto come ho incontrato quella che poi è stata la bullet magic la pallottola magica la terapia straordinaria che è stata alla base dei successi della ricerca contro la mieloide cronica attraverso la rete attraverso i newsgroup di youtube dove incontrai virtualmente un altro paziente un certo Zavi Miller che viveva in Canada e che lui aveva sperimentato già questa terapia in Canada in uno trial sperimentale Zavi a livello mondiale si era messo a cercare di riunire insieme tutti i pazienti con la mieloide cronica e cercava di dare conforto aveva costruito un registro un registro di coloro che raggiungevano la citogenetica oggi si parla di risposta molecolare profonda all'epoca ci si accontentava di sapere che a livello di microscopio a livello di citogenetica di analisi citogenetica non si rilevasse la malattia come vedete i passi sono stati enormi avanti io poi incontrai Zavi in persona a Lisbona nel maggio del 2009 in occasione dell'incontro internazionale dell'ASML al capo Kate ma visti tutti questi successi di cui ci ha parlato anche Fragasso ma si parla ancora di diagnosi la diagnosi fa ancora paura? sì purtroppo sì perché le narrazioni che continuo a raccogliere non ultime settimane scorse in ospedale mentre facevo le mie solite analisi di routine ho incontrato due ragazzi giovani uno con una diagnosi di un anno l'altro con una diagnosi già di qualche anno uno si poneva il problema se poter o meno affrontare la treatment free remission la sospensione del trattamento l'altro si poneva ancora la necessità i dubbi di capire come questa malattia poteva essere gestita tu ricevi una diagnosi e quando ti dicono la parola leucemia che poi il medico aggiunga mieloide cronica e guardi questo è un tumore che comunque ha delle prognosi molto favorevoli non ci sono problemi la parola leucemia è quella che ti resta in testa chiudi le orecchie non riesci più a capire nulla vai nel bar a trovare in un loop di paura bene bisogna che con i gruppi pazienti e questo l'abbiamo fatto da sempre di cercare di far sì che queste persone raggiungano vengono raggiunti dall'informazione data da un pari da una persona come loro vive questa malattia e quindi crei meno sconforto e li aiuti a superare questa malattia perché perché oggi a parte che sulla mieloide cronica su internet si trova di tutto di più purtroppo si trovano anche informazioni ancora obsolete dove si parla di malattia ancora con prognosi in fausta non è così assolutamente c'è uno studio clinico lo studio ILT che è datato già da parecchi anni che ha dimostrato qualche anno fa che oggi con la mieloide cronica è possibile avere una vita normale sì qualcuno di noi avrà degli effetti collaterali vita normale per qualcuno l'assumere un farmaco il dover continuare ad avere una routine all'interno della quale devo fare delle analisi devo assumere un farmaco è comunque un peso certamente sì però ricordiamoci che una malattia è una malattia tumorale che senza questi farmaci sarebbe mortale che grazie a questi farmaci diventa una malattia cronica una malattia che non ci porterà mai alla morte per causa diretta di mieloide cronica ma noi avremo la possibilità di vivere una vita normale limitata nel tempo e nello spazio da quelli che sono i problemi di tutte le persone che non hanno avuto una mieloide cronica quindi sicuramente possiamo recuperare e dobbiamo recuperare la nostra vita dobbiamo dimenticare di avere una leucemia mitode cronica che questa malattia è gestita da delle terapie appropriate cercare di avere un'ottima relazione col medico per poter gestire gli eventuali effetti collaterali e l'aggiustamento della terapia e l'eventuale modifica della stessa e possiamo avere un futuro un futuro certo ci permette di programmare il futuro la possibilità di avere dei figli oggi contrariamente a quello che si diceva negli anni 2000 di mieloide cronica la speranza di vita c'è totalmente e c'è un recupero totale della vita ed è infatti l'altro giorno il 24 di settembre in giro per l'Italia tutte le sezioni AIL hanno organizzato una fit walking una passeggiata per ricordare a tutti che c'è il ritorno alla vita e che il ritorno alla vita vuol dire riappropriarsi di una vita normale anche facendo una passeggiata in un parco quindi noi grazie a questi farmaci abbiamo sconfitto la malattia possiamo liberarci della schiavitù del farmaco NII dipende dalle risposte non dobbiamo avere fretta sicuramente la scienza sta andando avanti però sicuramente abbiamo superato quello che una volta era una certezza una volta dopo cinque anni che venivi diagnosticato mediamente era in vita solo il 20% dei pazienti quindi oggi invece ogni anno in Italia vengono diagnosticate circa mille casi circa all'anno in tutta Italia e queste persone continuano a vivere e fanno parte come ci diceva prima l'amico Alberto di quelle che sono le persone che aumentano la prevalenza della mieloide cronale cioè delle persone vive che continuano la loro vita grazie a questa terapia si può parlare di treatment free decision cioè mantenere la risposta dopo sospendere la terapia io ne sono un testimone diretto a me è successo ma io mi sono trattato per 14 anni dal 2000 al 2014 io ho fatto delle terapie in particolare con i matinib ma nel 2014 abbiamo deciso insieme al medico di sospendere la terapia non ho mai più ripreso il farmaco da allora la mia risposta fino a quella dell'altro giorno continua a essere undetectable cioè non si ritrovano più cellule o diciamo BCR-ABL traslocati risultati della traslocazione BCR-ABL non si trovano più nel mio sangue periferico quindi oggi la malattia in me non è rilevabile con nessuno strumento disponibile però può essere lì che cova non si sa io continuo a fare le analisi e a controllarmi questo vuol dire che sono un malato per me no per me significa che sono una persona forse più fortunata di chi ha un diabete o di chi ha un'altra malattia cronica come può essere un'ipertensione o altre malattie e comunque come vi dicevo sta colica biliare cioè l'aver superato la malattia cronica non mi porta a essere indenne dal continuare a vivere e a trovare delle problematiche tornando alla sospensione quando si parla di sospensione le paure che abbiamo noi sono il ripresentarsi della malattia cronica come vi dicevo l'altro giorno ho incontrato questo giovane ragazzo che da un anno è diagnosticato e a cui la dottoressa scusate da più di sei anni è diagnosticato e a cui la dottoressa ha prospettato la possibilità di interrompere la terapia beh ha paura perché ha paura che gli si possa ripresentare ma anche dice ma tanto io non ho effetti collaterali perché devo sospendere quando sospendo cosa può succedere sembrerà strano ma circa il 30% dei pazienti si sospende la terapia e ha degli effetti come di astinenza cioè come dei dolori articolari ma di questo penso ce ne parleranno i medici qual è lo stato d'animo invece conseguente quando dopo una sospensione ti ritrovi a dire beh la malattia a livello molecolare sta ritornando a farsi presentare quindi dobbiamo riprendere la terapia e beh i pazienti circa il 60% dei pazienti si sentono spaventati e depressi questo è il risultato di un'analisi internazionale che abbiamo fatto su 68 paesi e hanno risposto oltre 1200 persone mi pare sì 1016 pazienti in 68 nazioni diverse quindi i risultati della diagnosi di questa indagine cosa ci dicono che sulla base della provenienza degli intervistati risulta evidente che la sospensione è attuata principalmente nei paesi occidentali perché perché noi nei paesi occidentali abbiamo la possibilità di avere le analisi molto regolari cioè i paesi occidentali intendiamo l'Europa dell'Ovest e Nord America e il Giappone ma in tutti gli altri paesi compresi quelli qui confinanti dell'Est o in Sud America o nell'Asia guardate che non si parla di tutti questi farmaci non si parla di analisi molecolari ma anche nella stessa evoluta America non si parla di analisi molecolari con la frequenza che facciamo noi e con la disponibilità di tutti i farmaci che ricordiamoci in America se non hai soldi non ottieni nulla noi in Italia abbiamo un sistema sanitario che si sta pian piano stanno cercando di depauperare di portare verso la parte privata lasciando ai privati la parte buona lasciando al pubblico la gestione dei casi più complicati e quelli che hanno maggiori oneri quindi dobbiamo fare in modo che il nostro sistema sanitario di cui ci lamentiamo spesso in particolare al Sud ci sono delle situazioni molto complicate ma è noi cittadini dobbiamo riprendere in mano il sistema sanitario garantirlo dobbiamo essere vigili attenti nelle leggere persone che abbiano a cuore e non depauperi quelli che sono e non distruggono il sistema sanitario nazionale e che permettano anche al Sud di avere la stessa aspettativa di vita che hanno persone che vivono in altre regioni d'Italia questa difformità regionale che c'è in Italia è uno dei temi che come gruppi pazienti come advocates vogliamo tentare di sostenere è risolta la LMC è un problema risolto ci sono ancora dubbi aperti ce li ha detti prima l'amico Fragasso ne parleremo durante la riunione sicuramente i dubbi sono tanti e ci sono delle risposte ad alcuni di questi altri un po' meno e come AIL stiamo cercando anche di supportare quello che è il discorso psicologico per le persone affette da un cancro però volevo con voi fare un'ultima riflessione e concludo con questo al cancro si può sopravvivere questa è la copertina del Times che ci ha fatto vedere del Time che ci ha fatto vedere prima Alberto Fragasso e del maggio del 2001 quando in America viene approvato quello che si chiamava Gleevec in America Gleevec come vedete dall'immagine questo Imatinib come il Magic Bullet è stata definita questa che ha rivoluzionato la ricerca in campo ematologico e anche oncologico in generale perché è una pallottola che colpisce non come le chemioterapie in modo indiscriminato tutte le cellule del corpo ma colpisce in modo mirato e distrugge esclusivamente le cellule che hanno e presentano quella particolare caratteristica genetica in questo caso BCRBL ma lo stesso succede con le altre immunoterapie che sono disponibili e con queste che sono le terapie target negli ultimi vent'anni sia in campo ematologico che meno sono stati fatti progressi da giganti veramente enormi da tre persone su cinque ancora sono in vita dopo una diagnosi a cinque anni dalla diagnosi ancora più incoraggiante i tassi di sopravvivenza per i bambini per coloro che in età pedaglia oltre l'80% guarisce in Europa vivono viviamo circa 20 milioni di persone che ci siamo lasciate alle spalle un tumore e di queste persone di noi il 35% appartiene al cosiddetto gruppo di lungosopravviventi convenzionalmente le persone che hanno avuto una diagnosi di tumore oltre cinque anni vengono chiamate lungo long term survival bene la domanda che mi faccio e che faccio da parecchi anni quando ci incontriamo con gli amici in particolare della leucemia miliardica è ma c'è vita dopo il cancro? perché superare la malattia da un punto di vista clinico non significa smettere di essere considerati pazienti purtroppo dalla società è giusto che noi siamo considerati pazienti dai nostri medici noi rimaniamo pazienti per loro per sempre però noi vogliamo riappropriarci dell'essere persone vogliamo che la società consideri e non discrimini le persone che sono state colpite da una diagnosi di una neoplasia di un cancro in generale non solo ematologico come dei pazienti come delle persone a tempo come degli zombie noi vogliamo tornare e vogliamo e pretendiamo di ritornare e riappropriarci dei nostri diritti che ci vengono sottratti pensate a un bambino un ragazzo che in giovane età viene diagnosticato con la forma dell'eucemia guarisce a vent'anni si ritrova nel mondo della società a cercare un posto di lavoro a dover acquistare una casa perché vuol costituire una famiglia ebbene i medici gli dicono che è guarito ma lui lei non hanno la possibilità di accedere a un mutuo perché oggi la legislazione italiana purtroppo non ha ancora recepito quello che in Europa è una certezza in Francia già da diversi anni nei paesi diciamo nell'Olanda nei paesi bassi persino la Romania hanno delle leggi che garantiscono quello che oggi si chiama diritto all'oblio cioè garantiscono i diritti cioè evitano la discriminazione perché noi non chiediamo un qualcosa in più noi chiediamo di non essere discriminati e quindi chiediamo che il mondo in particolare in Italia veniamo nuovamente considerate persone perché oggi la diagnosi di un tumore non è più una condanna a morte però può essere una condanna a vita e noi vogliamo che questo non accada ed è per questo che sosteniamo e chiediamo attraverso AIL il sostegno alla ricerca per chi ancora presenta la dichiarazione nel 30 novembre i liberi professionisti e coloro che sono che hanno ancora tempo per farlo mettete il codice fiscale di AIL nella vostra dichiarazione di reddito costa nulla però fa sì che questi soldi poi vadano distribuiti alle 83 sezioni provinciali di cui è composta l'AIL che tutti i giorni sono a fianco di noi pazienti delle nostre famiglie e sono a fianco delle strutture ematologiche fornendo borse di studio case AIL ospitalità trasporto per le persone più fragili per le persone che non voglio chiamare pazienti ma delle persone che hanno incontrato nella loro vita la diagnosi di un tumore e con cui hanno ingaggiato una diciamo convivenza e che grazie ad AIL questa convivenza può essere più diciamo semplice più sostenibile e con questo ringrazio tutti ricordo che è importante compilare il questionario e vi invito tutti a farlo perché dobbiamo migliorare i nostri incontri pazienti di tutte le patologie e ogni volta ne impariamo una nuova ed è importante questo ringrazio nuovamente gli ematologi presenti ringrazio tutti voi in sala e quanti ci ascoltano da remoto siate virali aiutateci facciamo in modo che appunto mai più sogni spezzati facciamo sì grazie ad AIL e grazie alle 83 sezioni che sono il cuore pulsante di AIL di ottenere questo grazie a tutti e mi raccomando oggi è una giornata dove gli ematologi ci stanno facendo un dono enorme del loro tempo e della loro presenza usiamola abbiamo del tempo in particolare nel question time dove possiamo porre delle domande che spero siano numerose dubbi che non dobbiamo portarci a casa ma che oggi dobbiamo cercare di risolvere grazie ancora e scusate se non sono lì ma mi sento veramente con voi un abbraccio a tutti grazie a tutti grazie a tutti